In realtà c'è, l'unità che risolve è d'intorno del paese, perché ne sono stati che cacanesci nel nuovo paese. E che si può risolvere solo e esclusivamente se cimenti di betona, ma le betona che devono essere sorvegliate e devono essere pulite. Giovanni, ma chi le cavi per a dire o no? Giustamente, sempre da lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 difetti e pregi, e difetti non ce ne andiamo a fare bene, va bene? Grazie a tutti! 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 a tutti!